ConfCommercio ha riproposto anche quest'anno su tutto il territorio nazionale la consueta manifestazione in favore della legalità. A Cosenza l'incontro che ha coinvolto imprese e studenti ha fatto segnare la presenza del procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica Abruzzia, Marisa Manzini. Un'occasione per parlare anche del suo libro dal titolo Fai silenzio, caparrasti assai. L'argomento che affronteremo oggi nell'ambito di questa manifestazione di legalità, mi piace, è un titolo molto importante, è un argomento assai rilevante perché proprio involge quelle che sono le imprese e i commercianti del territorio. L'invito a parlare del mio libro è ovviamente collegato al fatto che le varie storie che io rappresento nel libro riguardano molte di esse imprenditori e commercianti che hanno avuto nel territorio calabrese il coraggio, tra virgolette dico il coraggio perché io penso che quello che appare come coraggio dovrebbe diventare normalità di parlare, di fare le dichiarazioni necessarie per avviare un'attività investigativa e di individuare i responsabili che per un tempo anche lungo sono stati quelli che hanno intimidito i commercianti e gli imprenditori. Quindi sensibilizzare le categorie imprenditoriali e i commercianti, far capire loro che sicuramente la collaborazione è fondamentale e che comunque le istituzioni sono con loro, direi che è una grande opera. Una sensibilizzazione, come ha dichiarato anche lo stesso procuratore, ha aggiunto che deve essere rivolta anche e soprattutto alle giovani generazioni. Assolutamente sì perché ritengo che se cambiamenti ci saranno su questa terra il merito dovrà essere ovviamente delle nuove generazioni che prenderanno atto della necessità di avviare un'attività collaborativa con lo Stato e di denunciare. Ecco perché secondo me il potere della parola diventa fondamentale. Durante il dibattito, oltre al procuratore aggiunto di Cosenza, Marisa Manzini, al presidente di Confcommercio a Cosenza, Klaus Algeri, gli imprenditori e gli studenti, c'è stato anche un collegamento video con la sede di Confcommercio nazionale dove per l'occasione è intervenuto il ministro dell'interno Matteo Salvini. Per parlare di legalità più che altro nel senso che molte volte ne parliamo ma ci dimentichiamo poi di poterla effettuare veramente. Oggi lo facciamo che in realtà sul campo, come il vice procuratore aggiunto, la dottoressa Manzini, ci ha scritto anche un libro su questo, ma lo facciamo non solo con tutto il nostro consiglio, con i nostri associati, ma lo facciamo anche con le scuole. Questo è per iniziare a parlare in un modo più concreto. Ascoltiamo il procuratore Marzini, quella che in realtà è la sua esperienza che è in questo momento, in realtà le ha scritto anche sul libro.